Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 novembre, vediamo i temi fondamentali che sono sempre i soliti, saluto tutti quelli che ci hanno seguito ieri sera a Quarta Repubblica e vi ricordo sempre il sito Nicola Porro e poi finiamo con tutte quante le questioni che ci riguardano. Ragazzi, questo libro ancora non l'avete comprato? Vorrei vedere le vostre foto con il libro in mano, comunque terza di stampa, quindi sono abbastanza contento che qualcuno di voi è andato in libreria a prenderselo. Cosa è successo sui giornali? Presto detto, perché il tema fondamentale oggi sui giornali continua ad essere l'ILVA. Frenata della trattativa è il tema che per il Corriere della Sera e non solo per il Corriere della Sera, anche per gli altri giornali è il tono di questa situazione. Il giornale secondo me più informato oggi per quello che sta succedendo sull'ILVA, almeno quello che dà l'informazione diversa rispetto agli altri, è il Messaggero, perché il Messaggero ci dice tre cose. La prima, che peraltro più o meno ci hanno anche gli altri giornali, è stato rinviato l'incontro tra Conte e il signor Mittal. Ieri Conte era occupato a vedersi con la Merkel e qualche giornale oggi è caduto in quella minchiata supercazzola mostruosa per cui l'Italia e la Germania devono cooperare sull'acciaio. Quelle robe che non hanno ovviamente nessun senso, perché che cosa si cooperano? Sono le aziende che cooperano, non gli stati sull'acciaio. Su che cosa cooperano? Però la prima questione è che è stato rinviato l'incontro con Mittal, e questo lo dice anche il Corriere della Sera, oltre al Messaggero. Gualtieri apre alla cassa depositi e prestiti. Gualtieri in realtà oggi, il ministro dell'economia parla poco, parla il suo vice Misiani che ne dice di tutto e di più, ma tutti quanti loro dicono che non si dovrebbe nazionalizzare. Ma in realtà la nazionalizzazione non ci sta perché non ci sono i soldi. Diverso è l'ipotesi che ci possa mettere un piccolo pezzo all'interno dell'ILVA la cassa depositi e prestiti. Ma il problema non sono tanto i soldi, chi guida le aziende, ma questo è un discorso che faremo nelle prossime settimane. Spunta, e questa è la notizia del Messaggero, l'ipotesi nuova cordata. In realtà il modello sarebbe, dice il Messaggero, quello dell'Alitalia. E Dio ce ne scampi! Ma il modello dell'Alitalia sapete quale sarebbe? Sarebbe che ci sarebbe il ministero dell'economia e finanze, la cassa depositi e prestiti e rullo di tamburi a gestire l'ILVA, ci pensa la Fincantieri. Povero, bono, il cui società è controllata dallo Stato e quindi la cassa depositi e prestiti che gli fanno fallire, perché questo è il concetto. La società, una delle poche grandi italiane che si chiama Fincantieri, perché gli diranno di gestire l'acciaio. Perché questo è il rischio. O è una finta l'ingresso dei Fincantieri, o se fosse vera io mi metterei le mani nei capelli e direi, bono, dovrebbe scappare anni luce, già acceso ai cazzi su Fincantieri. Pensate un po' voi se si deve occupare anche di quelli dell'ILVA, dove i magistrati oggi fanno delle interviste sui giornali e continuano a bastonare. Sono i magistrati che decideranno il futuro dell'ILVA. Intanto i giornali, il Fatto Quotidiano, non solo lui, anche il Sole 24 Ore, leggono come una disaffezione degli indiani, e te credo, nei confronti di questa azienda, il fatto che stanno scaricando minori materie prime sul porto. E queste sono le prove degli indiani in fuga, dice il Fatto Quotidiano. Per il Sole 24 Ore può essere una prova di un disimpegno, perché comunque l'acciaieria sta lavorando al minimo, o anche il rischio maltempo a Taranto. Questo è quello che sostiene il Sole 24 Ore. Nel frattempo la Lezzi, intervistata alla ministra del Sud, che gli erode di non fare più la ministra, intervistata da Luca Telese, oggi dice che a nessun conto voterà lo scudo penale nei confronti di Mittal, e dice che questa roba non avverrà anche se glielo chiedesse Conte. Vedete ragazzi, qua il punto fondamentale è che la Lezzi vuole, e lo dice legittimamente dal primo giorno, la morte di quella acciaieria. La Lezzi non voleva neanche la TAP, la Lezzi ama un'idea di un Sud che si sviluppa con le cozze, e che probabilmente darà lavoro a lei come parlamentare. Non so quali saranno i lavori che ci saranno al Sud, ma il punto fondamentale è che non vuole che l'Ilva ci sia là. Quindi il tema non è lo scudo penale, è uccidere il prima possibile chiunque voglia tenere in piedi quell'impianto produttivo. Quando poi Telese, bontà sua, chiede alla Lezzi, guardate che i Riva non sono stati condannati neanche una volta, la Lezzi ovviamente dice una cosa che non è vera. Dice che non sono stati condannati perché sono stati fatti 13 decreti del governo salva Ilva. Ovviamente quei 13 decreti salva Ilva non avevano nulla a che fare con la condanna del disastro ambientale. Questo può pensarlo soltanto la Lezzi, che probabilmente neanche le carte si legge, perché quei 13 decreti salva Ilva erano fatti semplicemente per poter all'Ilva commissariata continuare a sopravvivere. Due o tre di queste addirittura erano per esempio perché gli avevano sequestrato il materiale come corpo del reato per un miliardo di euro. Il governo dice almeno permettici di venderlo. Ma insomma, Renzi in realtà, secondo e dell'altro tema politico secondo il giornale, dovrebbe scudarsi stesso. Perché dice bene il giornale hanno presentato un emendamento sullo scudo penale e bene ha fatto Renzi e i renziani a farlo. Sia ben chiaro, perché la posizione di Renzi è giustamente diversa rispetto a quella della Lezzi. Però là lo pizzica a Sallusti, dice ma come se siete voi in Parlamento con la Lezzi, con il Leu e con il Movimento 5 Stelle e col PD a votare contro lo scudo penale di Riva e oggi fate un emendamento contro lo scudo che voi stessi avete cancellato in Parlamento? Beh, una cosa straordinaria. Nel frattempo Penati oggi su Repubblica, un economista che è sempre interessante leggere, dice gli ostacoli dello sviluppo italiano sono tre e il caso Ilva li sintetizza bene. La prima è la mancanza di certezza di diritto in questo paese, e ne lo sappiamo tutti. Il secondo, troppe risorse su questioni industrie decotte, come evidentemente immagina lui forse l'industria dell'acciaio. Terzo, la richiesta di maggior intervento pubblico, che sembra la panacea di tutti quanti i guai, senza nessuna strategia. Tesi, Penati, oggi liberista, liberale su Repubblica. L'industria nel frattempo come sta andando? Di merda. Va bene, il solo 24 ore certifica che per la prima volta in 23 mesi l'industria manifatturiera d'oro italiana, che si chiama Brescia, è in calo dello 0,4%. La produzione industriale italiana, tutta l'Italia, è meno 0,4%. Nell'ultimo trimestre è quasi un punto percentuale di produzione industriale di meno. Se noi produciamo di meno, pagheremo meno tasse, e voglio sapere come assumeremo 450.000 dipendenti previsti nelle assunzioni di questo governo. No, frena l'export. Questo è il motivo vero, non ancora Ilva né compagnia cantante, per quello che sta avvenendo. Nel frattempo ci sono un po' di cose interessanti, soprattutto quelle dichiarazioni del ministro del Sud Provenzano, che me lo dicono persona accorta, ma ieri ci ha spiegato che Milano non restituisce nulla. E Sala si è seccato perché dice Milano non restituisce nulla, ma anche se attrae molto non restituisce nulla. Più di restituire gente, formazione, ospedali, ricchezza e tasse, dico io, che vanno per tutta l'Italia. Che cosa deve restituire Provenzano? Io direi, pensate voi al Sud, io al Sud, di svilupparvi e non pensare che cosa possiamo fare a Milano perché restituisco qualcosa. Per fortuna, santo cielo, che c'è Milano. Invece no? Cosa vuol dire? Non restituisce nulla Milano. E lo dice non un milanese, se è chiaro, uno del Sud e come tanti del Sud che sono andati a Milano hanno capito che per fortuna c'è Milano. Ma non ci vuole molto a capito, se non forse quest'idea assurda e piagnona del Sud, che le colpe sono di Milano. Nel frattempo è interessante la questione di Travaglio, il portavoce delle procure, che se la prende con Renzi, che piagnucolava. Ah, hanno assolto Lupi. In effetti Travaglio ha un buon argomento da una parte e un pessimo dall'altra. Il buon argomento è che Lupi non fu difeso minimamente da Renzi, che oggi dice Ah, non avete parlato dell'archiviazione di Renzi, il mio ministro che si dimise. Beh, Renzi non mi sembra che aveva fatto barricate contro le dimissioni di Lupi. Poteva perfettamente dire a Lupi, che già all'epoca non era indagato, Guarda Lupi, tu non ti dimenti perché io sono un garantista e non c'è bisogno che tu ti dimetta. Eppure l'ha lasciato andare perché paraculo, cioè è l'uomo dello scudo, come dice chiaramente Sallusti. Ma dall'altra parte nessuno si occupa di questo Stefano Perotti e di Ettore in calza, che furono arrestati, gli hanno tolto le aziende, gli hanno sputtanati. Non sono Lupi, sono dei perfetti sconosciuti che facevano lavorare decine e decine di persone che sono stati archiviati. Io dico, io se fossi Perotti, questo Stefano Perotti, che non so chi cazzo sia, ma che era un imprenditore, che dava, un ingegnere, che dava da lavoro a tante persone, lo hanno sbattuto come un mostro e poi lo archiviano. Bisognerebbe chiedere scusa a lui, non tanto e solo a Lupi che non fu mai indagato. Va bene? Ma questo, chi se ne frega, no? E' passata, tutto in cavallerie, tanto là quello c'è il codice di procedura penale, che gliene frega se abbiamo perso un po' di lavoratori. Fuga dalle urne, dice, in tema di politica, ad Alberto Signori è a Regione, cioè il Movimento 5 Stelle non si vuole candidare in Emilia, dove nacque il Movimento 5 Stelle. Sapete perché? Dice, ad Alberto, hanno paura di certificare il loro 5-6% e quindi rischiano il Movimento 5 Stelle di non candidarsi proprio là dove sono nati. ultime due cose che vi... beh vabbè, oggi c'è il solito Lerner, vi dico, com'è che dice il sono pieno... aspetta, 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 ve lo devo leggere, nazismo, nazismo di ritorno, una cosa di questo tipo, e ovviamente un attacco ad Aenne, scusatemi, alla Meloni, scusatemi a dei parlamentari della Meloni, cioè questo è il solito pezzo di Lerner oggi. Per fortuna che c'è un bellissimo Veneziani che ci ricorda quanto siamo, come possiamo dire, orfani di De Felice e quell'idea della storicizzazione del fascismo e non della sua esorcizzazione criminale. Se voi volete leggervi un po' di robe storiche, oggi avete Brambilla che ci ricorda come, sul quotidiano nazionale, come non abbiamo ancora fatto i conti col comunismo, perché dopo il muro non c'era più nessun comunista, così che come dopo il fascismo non c'era più nessun fascista, De Felice ci ha ricordato la storicizzazione del fascismo, così come oggi Brambilla e Mieli sul quotidiano nazionale ci ricordano di questo paese che un tempo era sì davvero pieno di comunisti. Robert Watson, attenzione, rullo di tamburi, toc toc, chimico, non altro che chimico, oggi pagina intera del Corriere della Sera e per farci sentire bene ci dice, ve lo giuro, uno che fa parte di tutti quegli scienziati, quelli che seguiamo, eccetera, il mondo sarà più caldo, di quattro gradi, quattro, quattro gradi, non lo dice manco Benzebù, quattro gradi, e quelli che lo negano sono dei negazionisti, un po' come quelli che negano l'olocausto, possiamo caro chimico Watson avere dei dubbi, non dico altro senza essere insultati, che il mondo nei prossimi vent'anni sarà quattro gradi più caldo, posto che è uno zero virgola quello che è diventato più caldo negli ultimi cento rispetto alle vostre previsioni catastrofiche, no, probabilmente no. Va bene, io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo come sempre con la zuppa di domani e con, attenzione, il sito è micolaporro.it per tutto il resto delle informazioni. Ciao!